Si è tenuta questa mattina a Pescara la conferenza stampa convocata dal consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli alla presenza di numerosi amministratori di alcuni comuni del Pescarese per parlare dell'utilizzo per così dire distorto degli autovelox sul territorio provinciale. E' intervenuto anche Carlo Spaziani, già ufficiale della Polizia Locale di Roma Capitale in Pensione ed esperto nazionale di sistemi autovelox. In realtà ci sono tante lacune nella normativa e molti autovelox, anzi la maggior parte, direi quasi tutti, non rispettano quello che recita il codice della strada. In particolare me ne viene uno in mente, l'articolo 142 del codice della strada, questo articolo parla dell'analisi degli incidenti, dell'incidentalità nell'ultimo quinquennio. Nel caso specifico di Scafa, ma anche possiamo parlare di Pianella, in quel tratto di strada negli ultimi 5 anni non ci sono stati incidenti. Quindi un requisito fondamentale era proprio la presenza di incidenti in quel tratto di strada e quindi è solo in quel modo che si fa veramente prevenzione. Noi abbiamo chiaro in mente che l'obiettivo dei comuni non è fare prevenzione, ma è solo esclusivamente fare cassa. E questo lo dicono i numeri, lo dicono gli atti del bilancio. Facciamo un esempio, prendiamo il caso di Manopello. Già quell'autovelox è in posizione irregolare per la legge 120 2010, articolo 25,2, in quanto quell'autovelox deve stare a non meno di un chilometro di un incrocio e quello invece sia a direzione verso Roma che a direzione verso Pescara sta uno a circa 10 metri, un altro sta a 50 metri. Poi ci sono anche altre norme che riguardano le spese di accertamento che sono normalmente gonfiate e questi soldi diciamo che apparentemente non si sa a chi vanno, mentre invece io lo so a chi vanno. E quindi c'è anche una violazione di legge prevista dall'articolo 2401 del Codice Civile e 640 del Codice Penale.